Tra i tre migliori medici della Puglia e tra i primi 50 in Italia, il professor Michele Cassano, direttore della struttura complessa di Otorino-Laringoiatria del Policlinico Riuniti di Foggia, entra di diritto nella classifica delle eccellenze della sanità italiana, ricevendo il prestigioso premio Top Doctors Awards 2020, assegnato all'inizio di ogni anno ai dottori che più si sono distinti nell'anno precedente, individuati grazie al voto dei loro stessi colleghi. Enesimo motivo di prestigio per il Policlinico Riuniti di Foggia, che ne valora il percorso di crescita nel panorama regionale e nazionale. Rappresenta una grossa soddisfazione personale, ma anche un premio al lavoro svolto in questi anni, in cui abbiamo portato avanti un'unità operativa complessa di Otorino-Laringoiatria, quei dei riuniti, che ha avuto una crescita veramente negli ultimi anni esponenziale. Abbiamo portato avanti dei settori nei quali siamo diventati ormai dei punti di riferimento nazionale, sia nell'ambito dei disturbi respiratori del sonno, nel trattamento della chirurgia otologica, quindi disturbi dell'orecchio, chirurgia del naso e dei seni paranasali. Insomma, in qualche maniera è un premio al percorso formativo che si è fatto in questi anni. Che valore ha il fatto che l'è stato attribuito e riconosciuto da colleghi che l'hanno scelta rispetto ad altri? Probabilmente il riconoscimento anche di un'empatia nei confronti dei colleghi e dei pazienti. Infatti, al di là del premio sicuramente prestigioso, quello che più dà soddisfazione è vedere le risposte del pubblico, spesso nei social, sentire la felicità anche di coloro che abbiamo trattato con successo e che ritornano appunto con una frase, con un saluto, con un ringraziamento. E quindi questa penso sia la soddisfazione, al di là di ogni premio, penso sia la soddisfazione più bella.